John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Lo ha detto anche Monci quindi se ne può parlare Oggi Nzonzi Sì Nzonzi Oggi Gonalon andrà a fare le visite mediche con il Siviglia E quindi Gonalon sarà un nuovo giocatore del Siviglia Gli abbiamo preso Nzonzi e gli abbiamo dato Gonalon Ma allora Diciamo una cosa importantissima Diciamo una cosa importantissima Infatti metto qui alla mia sinistra il link di OneFootball La migliore apprezzazione sul mondo del calcio Se volete scaricarla il link è Il Diciamo il Come cazzo si dice Il link lo trovate qua sotto Per scaricarla ragazzi Migliore applicazione sul mondo del calcio Allora stavo dicendo Gonalon è del Siviglia Se la Roma avesse ceduto Gonalon e ha ceduto Gonalon Avrei detto ok ci sta Ci sta Allora io sinceramente penso che Gonalon abbia fallito a Roma Abbia fatto un anno disastroso Abbia fatto un anno senz'altro fuori da ogni tipo di previsione Molto molto brutto Molto molto deconcentrato Gonalon ha dimostrato purtroppo in un anno Anche se in un anno non si dimostra mai nulla Però ha dimostrato di non essere da Roma Magari quest'anno avrebbe dimostrato invece di esserlo Però ha fatto male e questo penso sia innegabile Quindi la decisione di Gonalon era giusta Se fosse rimasto avrei detto ok Perché ragazzi? Perché Di Francesco ha dimostrato di credere in Gonalon al di là di tutto Monce ha dimostrato di credere in Gonalon al di là di tutto Gonalon voleva rimanere fortemente a Roma Conosciamo il Maxim Gonalon prima di Roma E sappiamo che comunque è un giocatore molto molto bravo Quindi se fosse rimasto avrei detto ok Che cos'è però che mi fa storcere il naso? Che non capisco Che non riesco a capire Gonalon va al Siviglia in prestito secco In prestito secco Cioè ma che ce dobbiamo fare con un giocatore in prestito secco Dei 28 anni? Cioè perché? Cioè perché? Cioè quindi lui va al Siviglia Si fa un anno invecchia Poi torna e è ancora nostro Voi io non capisco Ma sta cosa mi ha lasciato veramente spiazzato ragazzi A meno che A meno che la Roma non voglia fare Allora a meno che Gonalon non abbia detto Adesso voglio rimanere a Roma Vado via solamente se poi ritorno a Roma La Roma per evitarsi l'ingaggio Vabbè vai al Siviglia A meno che il Siviglia non gli ha detto Di Don Zonzi Ma non ho tempo di sostituirlo Quindi dammi Gonalon E ci sta A meno che la Roma non voglia fare Zonzi-Gonalon il prossimo anno Quando De Rossi si ritirerà Con Zonzi titolare Gonalon in panchina A meno che queste cose non siano appunto reali Sinceramente non ne vedo il motivo Anche perché la Roma aveva ricevuto offerte Diciamo ufficialmente Di 10, 12, 9, 11 milioni di euro per Gonalon Prima dal campionato inglese Poi anche dal campionato francese Le squadre che comunque hanno visto Quando vanno a giocare con la maglia del Leone Quindi le cifre per Per Diamo anche i presupposti Per piazzare un giocatore Con un'importante plus valenza C'erano tutti Anche perché l'hai pagato 5 milioni di euro Non ho capito perché in prestito secco Mi fa strano sinceramente Cioè mi sembra totalmente fuori luogo Ora io non so Spero di sbagliarmi Spero che ci sia una mossa intelligente Dietro Cioè non sia stato fatto giusto Perché che palle Siamo su De Motire Rosa Vabbè prestalo che sappiamo che faccia Perché le possibilità di cederlo Anche comunque a cifre abbastanza alte C'erano tutte Ma comunque io auguro a Gonalon il meglio Tanto che magari l'anno prossimo Tornare e poi lo rivenderemo A 20 milioni Quanto farà bene al Siviglia Fammi sapere che ne pensi Fammi sapere che ne pensi Ti ringrazio per la visione Mi piace Se il video ti è piaciuto Dislike se ti ha fatto cagare Iscriviti al canale Come sempre Mi raccomando Iscriviti se ancora non l'hai fatto Buonasera E noi come sempre Ci vediamo in un prossimo video